Allora, va bene il no alla violenza. Su questo c'è un accordo generale, credo proprio di tutta l'Aula. Dove c'è il distingo è che questo no alla violenza non deve significare contestualmente un sì come apertura al matrimonio gay oppure all'adozione di figli da parte delle coppie omosessuali. Su questi due punti ci sono, come dire, convergenza massima e divergenza, credo, altrettanto ampia. Su questo vale il nostro emendamento che vuole essere un emendamento di garanzia che mantenga il no alla violenza ma non apra ad altre vie.